ciao ragazzi nuovo video tutto tech chi è più fedele al canale tempo fra avrà visto sia su telegram che su tik tok e su instagram avevo presentato queste telecamere che avevo comprato terra mi sembra il black friday piuttosto che il cyber monday adesso non ricordo esattamente ma è passato veramente tanto tempo perché un po di vicissitudini ho dovuto aspettare prima di poterle mettere in funzione attualmente non sono ancora in funzione perché sto facendo adesso il video e ho deciso di fare tutta la configurazione naturalmente con voi queste telecamere attualmente hanno un prezzo queste quattro sono telecamere outdoor quindi da esterno di 310 euro e questa 29,90 da interno diciamo che queste telecamere le ho acquistate a più o meno la metà del prezzo forse anche no sì più o meno la metà del prezzo e informandomi su quelle che erano le caratteristiche di queste telecamere parecchi si lamentavano appunto del prezzo troppo elevato per delle telecamere comunque di videosorveglianza in un mondo dove adesso la concorrenza in questo settore è veramente agguerrita quindi riuscire a trovare le stesse telecamere ad un prezzo inferiore sicuramente è un'ottima cosa quindi vi consiglio di aspettare quelle super offerte se volete acquistarvi io comunque nel frattempo ve le metto qui sotto in descrizione scusa se ti interrompo guarda che adesso ci sono in offerta è al 50% quindi ragazzi se volete acquistare quelle telecamere è arrivato il momento di farlo continuo pure altra cosa da dire sono telecamere che sono autoalimentate non hanno bisogno del cavo ma eventualmente c'è la possibilità di poterlo acquistare a parte anche sulla questione della durata delle batterie ho letto dei pareri molto contrastanti c'è chi dice che durano mesi c'è chi dice che dopo una settimana hanno dovuto cambiare le batterie io per adesso le terrò con l'alimentazione a batteria per testare questa cosa ed eventualmente però in un futuro per esigenze mie pensavo di collegarle con il cavo che le alimenta quindi fine dei giochi con la questione del cambio delle batterie fatto tutto questo preambolo io direi di non perdere altro tempo apriamo le scatole partiamo dalla piccola di casa blink è una blink mini è una telecamera da interno vediamo un po qui ci riporta delle caratteristiche della telecamera naturalmente massima compatibilità con il nostro dispositivo vocale questo è stato un altro motivo per il quale ho scelto questo prodotto perché danno la massima compatibilità preferisco avere un prodotto del genere naturalmente visione notturna in hd l'audio bidirezionale il motion detection insomma tutte queste telecamere ormai utilizzano più o meno le medesime caratteristiche apriamo la confezione all'interno c'è alimentatore perché questa qui a differenza di quelle da esterno è alimentata le viti per poterla fissare ad un supporto eventualmente cavo di alimentazione usb mini usb e questa è la telecamera qui andiamo sull'altro modello che ho preso con le quattro telecamere da esterno le blink outdoor sono quattro telecamere due anni di batteria da come indicazione di durata resistente naturalmente gli eventi atmosferici visione notturna in hd l'audio bidirezionale il motion detection e massima compatibilità con il nostro assistente vocale questa è la confezione all'interno troviamo il blink sync module 2 è la versione nuova che va alimentato con usb mini usb e da questa parte possiamo mettere una pendrive per poter effettuare le registrazioni di ciò che viene rilevato quando scattano tra virgolette gli allarmi delle telecamere altra cosa che mi ha convinto a comprare queste telecamere e questo scatolottino qui che fa da ponte diciamo che è un hub con funzione anche per poter registrare io nel frattempo sto tirando fuori il cavetto di alimentazione per essere collegato al sync qui c'è l'alimentatore supporti per le telecamere e qui ci sono le quattro telecamere anche queste qui dopo andremo a spellicolarle nella parte posteriore come vi dicevo prima è una mini usb non è un usb c quindi possiamo collegare l'alimentazione questa è una chiave che viene data in dotazione è una chiave che serve per aprire la parte dietro come vedete qui e dopo vi farò vedere per poter accedere all'interno e abilitare la batteria e fare quant'altro questa guida rapida ci indica che dobbiamo scaricare per prima cosa la app blink home monitor l'applicazione in questione è questa scaricata l'applicazione naturalmente ci chiede di effettuare la registrazione nel frattempo ho acceso il nostro blink sync il module 2 e faccio la registrazione e ci rivediamo dopo ho creato il mio account è stato semplicissimo bastava inserire la mail poi chiede il numero di telefono per una maggiore sicurezza vi invieranno dei codici insomma la solita procedura fatto questo ci chiede di collegare il nostro account amazon facciamo il collega inseriamo questi dati e avremo anche l'account collegato ho collegato l'account amazon ho fatto inserire tutte le credenziali qui ci dice che come al solito per tutte quante le app che includono telecamera bisogna aggiungere qualcosa basta fare clic sul tasto più in alto a destra prima cosa andiamo a collegare il sync qui ci dice che vuole accedere alla fotocamera perché nella parte posteriore c'è un qr code quindi faccio questa operazione e ci rivediamo dopo ci siamo creiamo un nuovo sistema adesso ci dice di dare un nome a questo sistema il sistema non è nient'altro che il gruppo di telecamere che verranno collegate al sync noi in questo caso lo chiameremo casa molto semplicemente infatti ci sono anche delle degli esempi sotto ci chiede se sta lampeggiando la luce blu facciamo trova il dispositivo qui naturalmente vuole accedere al wifi di casa vuole rilevare i dispositivi della mia rete gli do l'ok sta cercando la rete e ci vediamo dopo inserita la password sta cercando e scaricando gli aggiornamenti del sync ecco trovato anche il dispositivo e abbiamo creato il sistema casa trovato il primo dispositivo adesso faremo il più in alto a destra per poter aggiungere anche le altre telecamere all'interno della confezione trovate anche le batterie tutte le batterie per tutte le telecamere comunque andiamo nella parte posteriore della telecamera che vogliamo configurare togliamo il tappino di protezione svitiamo con l'apposita chiavetta come vi ho fatto vedere prima e basterà tirare per poter scoprire la parte interna della telecamera a questo punto inseriamo le batterie nel senso corretto la telecamera che inizia a lampeggiare ricordiamoci di richiudere il coperchio e utilizzando la chiave apposita andiamo ad avvitarla rimettiamo il tappino di copertura torniamo nella app facciamo il più in alto a destra e troviamo la nostra telecamera di riferimento la nostra è questa anche qui c'è da scansionare il qr code nella parte posteriore della telecamera che naturalmente era nella parte sottostante la inseriamo in questo gruppo che abbiamo creato precedentemente facciamo continua sta facendo la ricerca della videocamera nel frattempo sta facendo l'aggiornamento del firmware della telecamera videocamera aggiunta correttamente facciamo avanti ci viene data l'informativa che è stata attivata gratuitamente la prova al piano blink plus che comprende che poi naturalmente possiamo disdire in qualsiasi momento non perdere mai nulla c'è di registrazioni video su cloud illimitate insomma abbiamo tutta una serie di agevolazioni vediamo il fatto anche se poi dopo andrò a disdire l'abbonamento clicchiamo sulla telecamera e vediamo il funzionamento la telecamera è un leggerissimo ritardo questa cosa vediamo se è dovuta al fatto che adesso il modulo sync è lontano dal modem e magari avvicinandolo si avrà una reattività maggiore entrando nelle posizioni ci dà il nome del dispositivo che naturalmente possiamo cambiare il livello della batteria il firmware che è aggiornato il led di stato durante la registrazione quindi possiamo che dire che sia sempre spento oppure durante la registrazione che si accenda la potenza della rete la connessione al sync module e poi la temperatura abbiamo l'impostazione del movimento quindi c'è la rilevazione del movimento che utilizza un sensore integrato e invia gli avvisi quando viene rilevato il movimento la sensibilità del movimento le zone di movimento dà la possibilità una volta fissata la telecamera di decidere quale zona deve andare a riprendere magari in particolare c'è una finestra o una zona dove c'è un accesso un po' più semplice da utilizzare per un malintenzionato potremmo dire di concentrare il rilevamento in quella zona tempo di riattivazione regola per quanto tempo dopo un evento di movimento la telecamera videocamera non deve rilevare il movimento magari c'è stata un'infrazione o c'è stato un falso allarme si va fuori a verificare quindi per non continuare a ricevere delle notifiche magari possiamo dire per 25 secondi da quel momento non mandarmi altre notifiche notifica anticipata ci dà la possibilità attivando questo flag di ricevere una notifica non appena viene rilevato un movimento invece di aspettare il termine della registrazione di un filmato di movimento abbiamo le impostazioni video e foto lunghezza del filmato quindi si può impostare la lunghezza della registrazione dei filmati di movimento la qualità del video che può essere alta standard o risparmio quindi si avranno più o meno dettagli io per adesso lascio quella standard e anche quella consigliata questo flag invece ci dà la possibilità una volta terminato il filmato in anticipo se il movimento si ferma la registrazione dei filmati si interromperà non appena la videocamera smette di rilevare il movimento poi c'è la visione notturna la lasciamo in automatico l'intensità dell'infrarosso che regola la luminosità del led a infrarossi per controllare il riflesso mostrare più dettagli quando c'è la visione notturna attivata la lasciamo media l'acquisizione foto scatta una foto quando è attivato questo flag ogni ora impostazioni audio regola il volume dell'altoparlante della videocamera impostazione della privacy anche qui la zona di privacy se magari la mettete in camera da letto potrete dire la zona del letto voglio che lì ci sia una copertura di privacy quindi immagino che quella zona lì venga pixelata piuttosto che tolta direttamente dall'inquadratura registrazione video naturalmente la si lascia attivata streaming audio come il video sarebbe inutile disattivarle poi abbiamo l'aiuto e le maggiori informazioni sul dispositivo nella parte sotto troviamo il salva quindi immagino che ci sia la possibilità di poter salvare magari una foto piuttosto che un filmato tieni premuto per poter parlare e quindi attivare l'audio bidirezionale dopodiché c'è altro che ci riporta le impostazioni di prima ora andiamo a configurare questa che è la mini colleghiamo l'alimentazione tasto più in alto a destra videocamera mini c'è da scansionare il QR code faccio questa operazione ci rivediamo dopo la videocamera è stata rilevata mi chiede se voglio creare un nuovo sistema ma io gli dico no li voglio sempre lì quindi faccio continua e andrà ad aggiungere la telecamera per poterlo fare deve rilevarla naturalmente stessa cosa di prima sta lampeggiando blu trovate la videocamera ha fatto anche l'aggiornamento del firmware come la precedente dispositivo videocamera mini aggiunto al sistema casa quindi facciamo fatto configurazione effettuata vi ricordo poi naturalmente di andare nell'app del nostro assistente vocale alla voce skill e scaricare ed abbinare la skill di blink fatto questo piacevolmente sorpreso mi è venuto fuori un messaggio che ve lo leggo io praticamente dice che possiamo impostare nella prossima schermata una password di cifre che noi possiamo dare il comando vocale magari quando torniamo in casa per poter disattivare le nostre telecamere in modo tale che non ci sia bisogno ogni volta di entrare nella app stare lì a smanettare disattiva riattiva eccetera eccetera quindi la comodità è anche questa poter entrare in casa dare questo comando vocale e disattivare le telecamere quindi come funziona ho inserito un codice numerico che naturalmente vi consiglio di appuntarvi vi farà dare la conferma di questo codice in un'altra schermata fatto questo avete attivato anche questa funzione ultima cosa che ci rimane da fare verifichiamo se sul nostro dispositivo trova le telecamere allora non ho ancora abilitato un nome particolare per ogni telecamera perché devo ancora decidere dove mettere queste telecamere almeno con il touch posso andare a richiamarla andiamo nella telecamera eccole qui queste qui sono le due telecamere che abbiamo appena configurato andremo a cliccarne una eccola qui come vedete mette nella parte in basso lo schermettino con ancora la telecamera lo possiamo chiudere o riprendere come avete visto funziona nel momento in cui andrò a dare il nome dicevo alle telecamere mi basterà dire apri e dirò il nome della telecamera altra cosa io vado a sostituire le vecchie telecamere che avevo con le blink non perché mi trovi male io ho delle Ezviz ve le consiglio assolutamente sono delle telecamere favolose le ho ottenute per anni mi sono trovato benissimo la Ezviz ce ne ha inviato un paio di modelli forse tre e tutte le telecamere che ci ha inviato ci siamo trovati sempre molto ma molto bene sono passato a queste non perché quelle non avessero la compatibilità con il nostro assistente vocale perché anche quelle hanno la compatibilità con l'assistente vocale però volevo un sistema unico quindi una sola app che mi gestisca tutta la videosorveglianza di casa se Ezviz poi ci ascolta e vuole inviarci qualche altra telecamera per fare una videosorveglianza completa a me ne basterebbero quattro da esterno e una da interno no sto scherzando bene ragazzi l'ultima cosa che vi chiedo è se vi iscrivete al canale attivate la campanella e se perché no se lasciate anche un mi piace mi fa solo che piacere poi ho visto che il 70% delle persone che guardano il canale lo guardano in maniera assidua ma si dimenticano sempre di iscriversi al canale ragazzi è totalmente gratuito non succede assolutamente nulla vi trovate un canale in più nel vostro elenco degli iscritti tutto qua invece adesso di fare sempre i soliti pipponi siamo arrivati al momento dei saluti io direi che per questo video è tutto ci vediamo al prossimo ciao